buongiorno buongiorno do grazie a dio che con questa età sono inca pulito se ben che mio diabetine armelinda venturini debona sorella di rubine quanti anni 84 cosa sta facendo qui mi sono di sapare quale verde è perché per far far vendere se lavorano con verdura per vendere un poco acqua che le verde che covina da polaghi i radici di beterraba che senore che se o le non è che il tempero dopo che salsa e broccoli e agriano che è il principale a se fa salata né salata e buttate il mangiare né carne la salsa le seule dopo anche il cuento inca salata che ne di tipi di favore e dade che è di rossa che è la crespa che è l'americana che è la menina l'acchi dice che tante sorte dopo che il coso l'aglio corra se vende più poco ne perché che solo me fiola e la nora e allora le vende un poca tessacolone crissiuma e appoggini un la della ferra di crissiuma che vien ciò perché prima se vende per la ferra di crissiuma solo un che vien ciò sarà e dopo se vende nella ferra a Belong né a Belong e alla ferra allora se vende bene sideropolis Belong ma antigamente l'era Belong né la puoi passare per sideropolis adesso si voleva tornare indietro per Belong per far che non bisogna perché dopo i documenti ti tocca a truccare tutto né le fadiga e allora poi intanto meglio sì perché adesso è tutto in dia né a sideropolis se noi poteva stare prima Belong quando che l'era e noi altri non è non mai lavorare i miei fioli non ha lavorato la mina ma la continua mina perché non è solo un fiolone l'ultimo né ma l'andare la via e poi la sua fiola il fiolone un denaro la via e i sorveti piccolè sorveti i miei fioli erano mai alle 18 anni ah sì ora la via le sta qua e le hanno anche fatto che la casa fanno a fare la casa nella la sgrandata dopo le è stato anche che l'aveva il netto piccinino non è stato qua con la femmina perché la nora la volesse camminare la più volesse stare Dio 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 Dio